Bella vecchi dramani, benvenuti a oggi sul canale di Glamass Siamo tornati a oggi con i prodotti di Giovane E come potete vedere, stagione attuale SPPSV, ovvero Una partita vinta, due valleggi Tre sconfitte, ma tre sconfitte perché? Perché ci ha dato tre ritiri, incredibile Fantastico Quelli l'hanno solo 0-3 Perché non ci va bene quelle prima Ma una avevamo vinta e ci ha dato dei ritiri Quindi potremmo stare a otto punti praticamente Ma va bene così, non fa niente Questa è la nostra formazione per chi ce lo chiedesse Sempre c'è award perché ci avete rotto tanto Il cazzo che curtoava schifo Ma avete detto metti award Ioriso, check Award regà è baggadissimo, mo che c'è award Non ci rompete il cazzo perché c'è award C'è, no? FC, Wasserlos Wasserlos, Wasserlos Wasserlos, Wasserlos, Wasserlos Mertens, Squadrado, Cerci, Vidal De Rossi, Oleks, Dicchi, Bazzagli Cazares, Andanuti Regà se volete che torni la serie A Che torniamo a giocare con la serie A Commentate qua sotto E tipo dopo Romics, ovvero da martedì prossimo si ritorna Si ritorna a giocare con la serie A Perché dico da martedì prossimo perché adesso li stiamo registrando tutti insieme Quindi anche sì Mamma mia Che bustone Che bustone Che bustone Quindi senti pure dei più lenti Azzo Azzo Bello Lo so Filippo 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 Che bella Mamma mia Bello come ho visto E? Filippo 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 l'info dice che ha una manazzata cioè quello è un fallo no ma che culo che sono un gol di giocatori non si è segnato, incredibile c'è qualcosa che non quadra cioè guardalo ma che contrasto è è così tranquillo l'hanno distratto dai non ci voglio credere dai e dai eeeh sono davvero una minchia diventi mentali diventi mentali e il coon ah guero dimmi caschia vinta mia serva un cazzo eeeh cioè tu c'è il mare di testa, io c'ho il mare di testa se mettiamo insieme fanno un po' fanno una casa di fanno una casa di cura che fanno guardalo, guardalo bello e fanno però porca mi pensavo che ero città ma che oltre io non ci credo l'ha fatto ma come sta questo? ma come sta questo? ma va bene così meno male che mi sono allargato parco due ragazzi ho detto no è fuori non ci voglio credere cutigno incredibile due tiri due cose per lui c'è qualcosa che non quadrato che cacchio svento che svento non è possibile che segna questo che è un nano oh guarda non c'ho mai segnato da testa noia cazzo dai che tu ha no hai fatto il pallonetto un segreto e certo basta con sti pallonetti e che cazzo faccio? ma che cazzo faccio? ma che cazzo faccio? ma che cazzo faccio? ma che cazzo faccio? troppo troppo qualcuno gane perchè sto da 28 metri così tipo caricata là no no eh si ma che troppo? ma che cazzo? 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 una volta e me in cura così tu a voto e io penso che ti scartamolo tira eh che cazzo? ma ma io mi voglio ammazzare ma che cazzo? ma ho tirato e si questo ancora e più in mezzo eh 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 è rosso eh? si è rosso ma dove sei rimasto? guarda gira olè meno male ma era scritta le tue ma belle attrezza on top mannaggia finisce così ma è con 5 a 2 oddio ma te che scandalo ma hai visto che tiro di merda ha fatto cioè tu non sai che cosa ha fatto però hai visto che tiro di merda ha fatto io so che fate sei coglione gol no perchè fischi è bellissimo ho fatto il front shot la però tiro di merda perchè non è riuscito sto palo vabbè ho vinto 4 a 2 ma che cazzo di frega vado umiliando guarda i trapani lì che volano un gol e lo acclamavano gol preferisco il gol alla prossima partita eccoci qua con la seconda partita abbiamo fatto un piccolo innesto al volo ovvero abbiamo comprato Rune perchè ce l'avete consigliati molti e abbiamo tolto Coutinho quindi il C.O.C adesso è Rune con dietro di Maria e dietro di Dure la formazione è sempre uguale c'è soltanto Rune che cambia tutte bombe con Rune speriamo abbia 5 stelle di schile perchè io voglio fare il fancy shot ma manda che dice pure ecco non hai mai capito io ti mando il momento giusto non ho mai avuto il piano quello che cazzo di cibo che è stato per tutto di maria lunga domani ok no 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 che sto pari no se è un po' la ripresa all'auto come se fosse dire da un passaggio è visto quest'altro è andato a farfalle da solo no 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 ne avevo detto un cazzo via ecco il guarda che culo l'ha deviata non ci voglio crede scusate ma mamma mia u c'è cominciato a farmiare dal trentesimo non è possibile oh oh ma perché arriva sempre lui cazzo ne so io ho un buon stupro a salire un'altra volta Passaggio con gli stessi Lascia, 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 cazzo Che palla totta Oh mio, che palla totta Oh mio, che palla totta Oh mio, che palla totta Cazzo, bene che lui sta male Si sbratta, ma lo siamo già Oh, cazzo Ma non mi ha parlato, menina Adesso guarda, è perfetto Sì, sì Che lui è sempre bello Sì, cazzo Sì, cazzo Siamo passati dalla parola a 4Gb Sì, cazzo Siamo passati dalla menina al tantissimo Al 3 a 1 per noi Ah, che bello, perché te ne stai andando Te ne stai andando? Eh? Vai! Alluta al pubblico E quindi può pure andare Esatto, per fare menina invece ho perso 3 a 1 Incredibile, entra Sam E ora si, ma il Bundesliga Perché fa tanto salvi No, tranquillo Ho tagliato Eh no Volevo fare menina invece ho perso 4 a 1 No, la canzone da buon tempo Perché non ti raccontava No, perché mi piace il rock No, perché mi sto cosendo perché Un buco di video sta allucinando Uno che fa menina E che prende inizie E' veramente che ci fa tanto Mi piace il Mystic Oh, adesso che fa menina? Ti veniamo il 4 a 2 Dai, ed� Giuro, li ha parlato � i soforti la mamma perché c'è bene che noi non vogliamo di una rosa in attacco stavano per il regolamento in mezzo a due l'abbiamo fatta la linea va bene ok su 4 a 2 un episodio con due vittorie incredibili tutto è possibile quattro due vittorie possiamo ancora andare in quattro regioni bisogni belli ciao